Ciao a tutti ragazzi, sono sempre Yoriki122 e oggi vi porto un po' di Black Ops 2, lo so a molti non piacerà, però vi chiedo cortesemente di rimanere anche se magari non vi piace il gioco perché questo video è davvero importante per il proseguimento del mio canale, quindi come ho già detto in un mio vecchio video il gameplay fa solo da sfondo, l'importante è quello che dovrò dirvi, quindi anche a tutti i miei video. Ai più hater di COD chiedo di rimanere un paio di minuti ad ascoltare un attimo cosa da dire. Come avete sicuramente intuito dal titolo voglio un attimo fare chiarezza, voglio un po' fare il punto della situazione sul momento che sto vivendo per il mio canale intendo. In questi ultimi mesi c'è stato un po' di trambusto, account rubato, pochi video e argomenti un po' strani. Insomma, è un po' un casino diciamo e ne approfitto appunto per chiedervi alcune cose, ovvero cosa volete vedere adesso da me? Sapete, perlomeno se non lo sapete adesso lo ripeto un'altra volta, che adesso non posso giocare a Battlefield 3. Cioè ormai sono due mesi passati o di più che non posso giocare davvero per un problema di account che sto cercando di risolvere e quindi davvero non posso più registrare in alcun modo. Io avevo una mezza idea di fare un po' di video di Black Ops 2, adesso so che a molti l'idea potrebbe non piacere, però comunque mi ci metto in mezzo anch'io tra le persone che non guardavano più video di COD. Perché io ormai erano già un annetto che non guardavo più video di COD perché mi ero stancato, ero rimasto a MW2 o Black Ops al massimo. A quel tempo c'erano i primi commentatori italiani, ma questo volevo risparmi, quindi ho iniziato da lì. Però, Black Ops 2 so che a molti magari non piace, però comunque a me devo dire che dagli ultimi COD è uno dei migliori. Mi è piaciuto davvero e mi ha fatto donare quel gusto di giocare a un buon COD, un buon vecchio COD senza troppe cagate, senza troppe cose che stravolgano il gameplay in sé. Con delle animazioni carine che mi hanno fatto davvero piacere, che rendono il gioco un po' più nuovo del solito, senza stravolgerlo troppo. Che comunque mantengono la buona linea di COD, ovvero il gioco frenetico e in singolo, dove ciò che conta è l'abilità personale e individuale. Quindi sì, una delle opzioni è un video dei Black Ops 2, che è quello su cui mi vorrei orientare. Però questo comunque lo chiedo a voi, questa è una domanda che vi faccio, quindi mi servirebbe davvero una risposta a voi, una risposta attiva nei commenti dei miei iscritti. Che è la cosa penso più importante di una persona che fa video su YouTube, ovvero gli iscritti che siano partecipi ai video tramite commenti, tramite qualsiasi cosa. Quindi fatemi sapere se vi può interessare appunto i video di Black Ops 2, oppure Medal of Honor, oppure qualsiasi altro gioco, basta che voi me lo scriviate con un commento. E soprattutto un altro punto in cui volevo coinvolgervi era che temi devo trattare, ovvero commentari classici, live, non so, magari fare un Weapons of Black Ops, che ne so. Tanto alla fine io potrei comunque fare la stessa cosa su Black Ops 2 e comunque penso che non cambi tanto, alla fine le armi sono quelle, sono uguali sia in Black Ops sia in Battlefield 3. Non lo so, magari a voi può fare differenza. Fatemi sapere anche questo, io sarei davvero contentissimo di riprendere a lavorare su un progetto di, ma che ne so, Weapons of Black Ops o qualcos'altro. Io sarei davvero felicissimo di farlo. Stavo dicendo sì, appunto i temi, ovvero commentary classici, oppure live, o come vi ho appena detto, video documentari, ecco chiamiamoli così. E sì, essenzialmente questo video ha questa funzione, ovvero chiedere, raccogliere diciamo delle risposte da voi iscritti per avere delle certezze, per capire un po' cosa fare e come indirizzare i miei video. E diciamo che mi farebbe davvero piacere avere queste risposte perché così almeno saprei cosa fare. E quindi, ricapitoliamo. Battlefield 3 mi spiace, ma per un po' non potrò più giocarlo, quindi davvero non dipende da me e quindi non posso fare altro. E come vi ho già detto, ho altri giochi. Vi propongo Black Ops 2, può andare anche bene Medal of Honor, anche se l'ho giocato poco. O altri giochi che magari adesso vanno di moda. E poi mi dite se riuscite anche in un commento cosa vorreste vedere, magari in Weapons of Black Ops o dei commentary normalissimi come facevo sempre anche prima o qualcos'altro. Questo video più che altro era mirato a quello, so che magari non è molto utile, però per me è davvero importante. Giusto, visto che siamo in periodo natalizio, non so probabilmente quando caricherò questo video, però se non avrò più modo di caricarne uno prima di Natale o Capodanno, vi auguro le più felici feste, natalizie e di fine anno con la vostra famiglia, i vostri amici, con chi volete. Quindi vi auguro un buon Natale e un buon anno. Ci vediamo ad un prossimo video. Ciao ciao! Ciao!